Mi arrendo. Sonia Bruganelli ha spiazzato tutti nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. C'era tanta attesa per la sua nuova esibizione, dopo le scintille delle settimane scorse con i membri della giuria. Sonia, infatti, si è scontrata con quasi tutti i giurati, ad eccezione della presidentessa, Caroline Smith. Un confronto che è andato oltre l'aspetto tecnico, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Cosa succederà stavolta? È la domanda che si sono posti i telespettatori per tutta la settimana. Anche nei giorni scorsi, infatti, non sono mancate polemiche e frecciatine a distanza tra la ballerina VIP e la giornalista del Fatto Quotidiano. La Lucarelli aveva definito le precedenti esibizioni di Sonia modeste. Sul palco Sei piccola, Sonia, aveva detto, ma Brugganelli aveva percepito quelle parole come un'offesa sul personale. Sonia Brugganelli fa un passo indietro. Ieri, in puntata, ha sostanzialmente dato ragione a Lucarelli che avessi poca personalità nel ballo era vero. Vedendomi dall'esterno, mi sono detta che era il caso di metterci più carattere. Le due hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra. Sonia alla fine si è arresa all'evidenza dei fatti ed ha dato ragione alla giuria, si legge sui social. Dal mio punto di vista ha fatto bene, era il solo modo per restare in gioco. A tendere una mano è stata proprio selvaggia. Ho guardato la clip, hai detto che non vuoi più alimentare polemiche, quindi voglio accontentarti. Parliamo solo di ballo. Devo dire che il ballo è stato più che dignitoso, ben fatto. Certo, non sei diventata gigantesca, diciamo diversamente grande. Per Sonia è stata una serata ricca di emozioni. Prima il salvataggio dopo lo spareggio con Alan Friedman grazie alla wild card, poi la vittoria al televoto finale contro i cugini di Campagnà. Tra il pubblico in studio a fare il tifo per lei c'era anche ieri suo figlio Davide Bonolis. Bruganelli, in gara con il maestro Carlo Aloia, si è cimentata in un balzer che ha messo d'accordo quasi tutta la giuria, e in particolare il pubblico, che le ha tributato una standing ovation. Qui ho la possibilità di mostrare la mia personalità attraverso il ballo e credo stia finalmente emergendo. Ha concluso lei. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.